La catena della gru che si spezza, la pesante trave del ponte che si stacca e lo travolge spezzando il cuore di familiari e amici e dell'intera comunità di Ariano, già scossa dall'emergenza covid. Era rientrato al lavoro una decina di giorni fa Pietro Nuzzolo, 38 anni, stamattina il decesso nel cantiere Anas per la riqualificazione del viadotto La Manna Tre Torri. Tre giorni fa era stato il suo compleanno, oggi quello della moglie, una giornata che sarebbe dovuta essere di festa, che si è tramutata in tragedia alla vigilia del primo maggio. Lavori attesi, quelli alla cavalcavia, finito più volte alla ribalta delle cronache per la sua pericolosità. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia del Tricolle, i vigili del fuoco, il personale medico del 118, allertato dalla ditta, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Come da prassi sono state avviate indagini sull'accaduto, la salma non potrà essere restituita alla famiglia se prima non verrà eseguita un'ispezione esterna. lacrime e silenzio sul Tricolle, mentre il mondo sindacale, alla vigilia della festa del lavoro macchiata dal sangue, esprime rabbia per l'ennesima tragedia.